Torna l'appuntamento annuale con i convegni di divulgazione medico-scientifica organizzati da 50 e più di Confcommercio con la collaborazione di Terziario Donna e di Stella Scarpa attraverso la start-up SM Euformula. Dopo l'interesse riscosso dei precedenti convegni come fermare il tempo, medicina di genere, benessere in menopausa e in andropausa, quest'anno si parlerà di medicina personalizzata, la nuova sfida della ricerca e della terapia che prevede trattamenti diversi per la stessa malattia in base alla genetica del singolo paziente. Un appuntamento fissato per domenica 23 ottobre a Villa Matarazzo di Gradara a partire dalle 9.30. Questo convegno si inserisce in un flusso di attività che è 50 e più che un sistema associativo di servizi legati a Confcommercio, un flusso di attività, dicevo, che viene fatto da tanti anni nell'ambito della formazione medico-scientifica a favore dei propri associati che fanno parte del mondo della terza età. 50 e più si occupa non solo di attività relative alle pensioni o attività relative allo svolgimento di servizi fiscali, ma appunto ha anche un ambito che si occupa del benessere della persona. In questo ambito, questo convegno del 23 ottobre, si inserisce. Come sempre lo facciamo in collaborazione con Terterio Donna e con Stella Scarpa, con cui collaboriamo da anni e abbiamo capito che sono tematiche particolarmente interessanti e molto gradite ai nostri associati, che facendo parte della Silver Generation sono particolarmente sensibili a tutto quello che riguarda la salute. La medicina personalizzata mette al centro il paziente e non la patologia, questa è la cosa più importante. I benefici che si possono avere dalla medicina personalizzata sono che aumenta la possibilità di guarire più facilmente e soprattutto anche nelle malattie più gravi, diciamo, la medicina personalizzata riesce ad avere dei buoni risultati. Terziario Donna Confcommercio, che è la struttura e l'organizzazione che si occupa delle imprenditrici Confcommercio della nostra provincia, tiene molto alle sue imprenditrici, le vuole in buona salute. E anche quest'anno abbiamo organizzato appunto questo bellissimo convegno che parla di medicina personalizzata. Inviteremo i padri della medicina personalizzata, che sono il professor Minelli, Mauro Minelli, e il professor Maurizio Sammaco, che hanno fondato già dieci anni fa la fondazione Medicina Personalizzata. La medicina personalizzata è un nuovo paradigma nei confronti proprio della sanità e della presa in carico dell'utente in base proprio alla patologia. Quindi mettiamo finalmente l'uomo al centro e di conseguenza il paziente al centro. Ecco perché il nostro focus è proprio quello di creare anche come associazione di categoria, quindi qualità di associazionismo, proprio la messa in luce della persona e ovviamente seguendolo anche da punto di vista imprenditoriale. In questo convegno sono coinvolta personalmente sia in qualità di presidente di categoria del gruppo Bellezza, Salute e Benessere, ma anche proprio come titolare di una società che si chiama SMO Formula, che è una start-up innovativa che ha come per oggetto proprio un brevetto, un brevetto esclusivo, un brevetto molto particolare che proprio riguarda un'apparecchiatura elettromedicale a sostegno proprio del mettere a punto un funnel di trattamenti di rimessa in forma funzionale proprio in visione della personalizzazione rispetto al periodo ormonale dell'utente e sul stato infiammatorio, un po' quello che proprio fa la medicina personalizzata. L'ho messo a punto questo brevetto insieme a Marilena Pomante, mia socia all'interno della società SMO Formula, ma anche insieme al primario dell'ospedale di Macerata, il dottor Mauro Cirilli, di chirurgo vascolare e medico estetico. Siamo tre quindi gli inventori di questa bellissima innovazione che poi stesso lui presenterà durante il convegno come relatore. Relatori che saranno arricchiti anche dalla presenza della dottoressa Maddalena Fratelli, ricercatrice dell'Istituto Mario Negri e del dottor Davide Schembri, esperto di nutrizione in condizioni patologiche. Sarà una grande occasione di apprendimento medico-scientifico ad ingresso libero, come sarà gratuito l'incontro conviviale al termine del convegno per il quale è sufficiente la prenotazione. Questo è l'ultimo di una serie di eventi creati proprio insieme a due persone speciali che vorrei ringraziare per avermi sempre coinvolta in tutti questi anni, che sono il presidente di 50 e più Alberto Dolci e la presidente di Terziere Donna Confcommercio Patrizia Caimi. È sempre bello dare continuità ad un aspetto così importante che è proprio la messa in luce della scientificità proprio a livello territoriale. Grazie a tutti.